Noi di TempoFlex ci occupiamo di voi e del vostro futuro, mentre ci preoccupiamo di voi nel nostro presente. In un mondo in cui il tempo è denaro, il denaro numeri e si paga tanto con i quanto, quanto con i quando, noi di TempoFlex offriamo il servizio unico nel suo genere di risparmio di minutaggio biologico. Iscrivendovi al nostro servizio bancario, potrete depositare il vostro perfettissimo tempo in comodi tagli da secondi, minuti ed ore nel nostro conto corrente temporale standardizzato, per poi riutilizzarlo quando vi farà più comodo ed ottimizzarlo. Come? Ritenete di non aver bisogno dei nostri servizi. Ho tempo, c'è tempo, oggi voglio prendermela comoda. Non siate sciocchi. Lasciate che faccia due conti per voi. Ipotizzando un'età media in sala di 30 anni, 30 per 365 giorni, 24 ore per 60 minuti per 60 secondi, se non avete consumato 946 milioni di secondi di vita. Ritenete di averli fatti fruttare? Controlliamo. Considerando un'aspettativa di vita media di 80 anni, il vostro capitale totale è 2522 milioni di secondi, meno 946 milioni di secondi già vissuti, non vi restano che 1176 milioni di secondi da vivere. Fumate, il vostro capitale si riduce del 13%, ossia di 200 milioni di secondi. Ma in più voi, ma voi, ma voi, ma noi umani abbiamo bisogno di dormire, nutrirci, e che approssimativamente porta via 8 più 3, 11 ore al giorno. Ossia 578 milioni di secondi che vi lasciano soltanto con 762 milioni di secondi. Ma in più voi lavorate 8 ore al giorno, 9 contando gli straordinari. Il che so tra i altri 473 milioni di secondi vi lascia soltanto con 289 milioni di secondi. Uscire con gli amici, 172 milioni di secondi. Le cene con i parenti, 34 milioni di secondi. I weekend in vacanza, 4 milioni di secondi. Scrivere, fare della poesia, aspettando che l'ispirazione si degni di comparire. Venire ad ascoltare poesia fingendo di star seguendo il discorso, di non starvi annoiando a morte. Uno sperpero e infinito di tempo. Voi, miei cari, siete già praticamente morti. Ed è qui che entriamo in gioco nuovo di TempoFlex, a cui potete depositare il preziosissimo tempo che ottimizzerete dormendo poco, mangiando di corsa, ed evitandovi ad accomodarvi davanti allo schermo di TempoFlex TV per subigustarvi i programmi che vi proponeremo. Come? Non siete d'accordo? Non lo farete mai? Ma voi già lo fate. Abbiamo provveduto ad installare il concetto contratto nel vostro cervello durante la riproduzione di questo spot. Benvenuti in TempoFlex. La prossima volta che sprecherete un pomeriggio di creatività davanti ad uno schermo, noi saremo lì. La prossima volta che non parlerete con chi vi vuole bene perché non vi va, noi saremo lì. La prossima volta che andrete troppo di corsa per chiedervi se le scelte della vostra vita sono veramente vostre scelte o siete solo un prodotto da vendere. Noi saremo lì. La prossima volta che non abbraccerete vostra madre perché avete di meglio da fare, pensate a noi. Noi saremo lì. Pensateci. Se ne avrete il tempo.